Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube, il nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Oggi è il giorno della Fed, questa sera alle 8, ci sarà la pubblicazione sulle decisioni dell'aumento del tasso di interesse, ovviamente di riferimento. Aumento che dovrebbe essere, per quanto insomma si è visto fino a questi giorni, insomma confermato intorno allo 0,50. Non dovrebbero esserci sorprese né da un punto di vista positivo, cioè che l'aumento sia più basso, né da un punto di vista negativo, che l'aumento sia addirittura di uno 0,75, ma è più probabile invece che ci saranno altri aumenti più ravvicinati nel corso dell'anno. Quindi la Fed sa che deve combattere l'inflazione come prima cosa e quello che deve fare ovviamente è aumentare i tassi, su questo non ci piove. Quindi stasera vedremo un po' come si comporteranno i mercati intorno alle 8, ci sarà come al solito una consueta volatilità dei mercati, quindi occhio, mi raccomando, a tenere stop loss abbastanza ampli, perché altrimenti rischiate di prendervi qualche schiaffone in faccia, ma soprattutto vedremo un po' quali saranno, oltre diciamo alla decisione sui tassi, quali saranno poi le decisioni, quale sarà il verbale della Fed che dirà quale strada intende prendere per le prossime mesi, per le prossime settimane soprattutto, e quindi questo è quello che oggi sta muovendo poi i mercati, mercati che sono essenzialmente fermi, perché ovviamente sono tutti in attesa della Fed, infatti se andiamo subito a vedere quello che sta succedendo sui mercati, qui siamo ovviamente sul gas, stiamo facendo dei test, Allora, quello che vediamo qua sui mercati, guardate, è subito il Nasdaq, e poi dopo vi faccio vedere subito una cosa interessante, il Nasdaq in questo momento è praticamente leggermente negativo, manca ancora un quarto d'ora, 20 minuti all'apertura, siamo a meno 0,17%, l'SP500 è praticamente fermo, i mercati europei sono diciamo un po' incerti, i Futsumib è meno 0,50%, DAX è 0,20%, UK è meno 0,41%, Francia è meno 0,53%, abbiamo ancora un po' di mercati cinesi fermi per le festività, i futures si stanno muovendo, c'è da dire che però si è mosso l'Angseng questa notte e l'Angseng Tech ha fatto il meno 3,29%, quindi questo insomma lascia poco margine di miglioramento per quanto riguarda, diciamo, le ipotesi di eventuali riprese da un punto di vista dei mercati cinesi, che sono ancora molto molto depressi, ancora ripresi con tanti tanti problemi. Quindi abbiamo questo supportone qui, vedete questo supportone qui in verde sul Nasdaq, e speculare ce l'abbiamo anche sull'SP500. Adesso, quello che volevo farvi vedere, prima di andare a parlare un po' di quello che sono le giornate di oggi, insomma i risultati di oggi, è appunto una serie di grafici che ho messo insieme, qua proprio su TradingView. Allora, innanzitutto, quello che vedete qui, il primo riquadro in alto a sinistra, sono i grafici, vedete nel corso dei vari anni, su base mensile, il blu è quello del grafico di tutti gli indici azionari mondiali, vedete, questo qui in azzurro è l'SP500, sempre in azzurro sopra è il Nasdaq, vedete come l'SP500 e il Nasdaq, insomma, in percentuale hanno performato molto di più rispetto, diciamo, agli indici normali, e poi abbiamo in giallo Bitcoin, che, come potete vedere, ha una certa performance in maniera abbastanza interessante. Perché ho messo anche il Bitcoin? Perché vedete che negli ultimi periodi, come vi ho detto, Bitcoin si è andato in qualche modo ad affiancare alle equities, no? Cioè, nel senso, non si sta più muovendo di vita propria, ma segue a stretto giro proprio l'SP500, tra l'altro. Infatti vedete che questi movimenti, soprattutto da qui, diciamo, dal dicembre 2021, in qualche modo, soprattutto sono più marcati, ma anche un po' prima, vedete qui, se vediamo, ad esempio, da giugno 2021, i movimenti di Bitcoin e i movimenti dell'SP500 si somigliano molto, solo che il Bitcoin ha un effetto leva molto più potente, diciamo, intorno al 150%. Diciamo che se comprate un'azione di, prendete un'azione, diciamo, una percentuale, un'unità di SP500, il movimento di Bitcoin lo dovete moltiplicare per più o meno per 100, 150, perché è molto più volatile. Ma sono quelli, comunque, i movimenti, vedete, si somigliano molto. Poi qui sotto cosa ho messo? Ho messo i Treasurer a 10 e a 30 anni, dove ci danno, ci dicono i rendimenti, vedete, i rendimenti come sono andati nel corso degli anni, ma soprattutto nel corso, diciamo, di come si sono correlati i vari rendimenti con i movimenti dei mercati azionari, vedete. E poi cosa abbiamo qua? Qui abbiamo il Bloomberg Commodity Index, ovvero il quanto le materie prime si sono apprezzate o deprezzate nel corso degli anni, proprio sempre riferita a una certa finestra temporale, parlando più o meno degli ultimi 10 anni. E poi abbiamo il dollaro, stessa cosa. Perché questo? Perché poi di qua, nell'altra finestra, ho preparato, che cosa? L'interest rate, quindi, diciamo, il tasso attuale della Banca Centrale Americana, che vedete è allo 0,50, sempre nel corso degli anni. E poi qui sotto abbiamo l'inflazione americana, ovviamente circa all'8,50%, sempre qui abbiamo rapportato i Treasurer a 10 e a 30 anni, e qui abbiamo l'unemployment rate, che vedete è la percentuale, diciamo, di disoccupazione che è comunque abbastanza bassa. Allora, perché ho fatto questo? Perché era interessante, innanzitutto, vedere come un aumento dei rendimenti dei bond, quindi un aumento dei rendimenti dell'obbligazionario, tendenzialmente porta i mercati azionari, vedete, a scendere, a stornare. Più, infatti, vedete che da qui, diciamo, da quando i bond hanno cominciato a salire in maniera abbastanza importante, qui siamo a novembre 2021, il mercato azionario ha cominciato prima a lateralizzare un pochino e poi a scendere. Quindi significa che qui eravamo arrivati al massimo picco economico e adesso stiamo entrando in una specie di recessione, o quantomeno di contrazione economica, e questo vale a livello mondiale, non solo negli Stati Uniti. E poi cosa vediamo? Vediamo che con l'aumentare dei tassi, con l'aumentare, scusate, dei rendimenti dei bond, quindi dei bond, sì, è andato ad apprezzarsi anche il dollaro, cosa che tendenzialmente in realtà non è mai così correlato. Ma la cosa più sorprendente è che la salita, ovviamente, delle materie prime, che ha seguito molto il rendimento, diciamo, dei bond. Ora, qui siamo in una situazione abbastanza particolare, perché qui ci sono stati degli eventi che non abbiamo riscontrato nel corso degli anni precedenti, almeno non in maniera particolarmente pesante, se non arrivando dal 2008, diciamo, dalla crisi dei modi di Sun Prime. E qui cosa c'è stato? Nel 2020 c'è stata, ovviamente, la prima pandemia che ha mandato in tilt un po' tutto il sistema finanziario e poi, dopo di che, siamo arrivati ai giorni nostri con la guerra attuale. Quindi, questi grafici mi servono più che altro per tenere sott'occhio la macroeconomia mondiale per cercare di capire poi come muovermi e come riposizionarmi nel corso dei mesi. E poi, soprattutto, perché? Perché, andando a vedere qua l'interest rate degli Stati Uniti che nel corso del 2016, vedete, è aumentato fino al 2018, era partito dallo zero, è arrivato al 2,50%, però, vedete che, alla fine, diciamo, se andiamo a vedere il movimento dei bond qua, vedete, seguite la riga bianca in basso a destra, vedete che il rendimento dei bond, sì, è andato piano piano a salire con l'aumentare dei tassi e poi è crollato, ma poi il rendimento dei bond ha ricominciato a salire anche con i tassi fermi. Questo perché? Perché, ovviamente, è andato ad aumentare anche l'inflazione e, infatti, vedete che qui, con l'aumento dell'inflazione, i bond sono schizzati verso l'alto e così, eppure, è successo anche per le materie prime. Quindi, sarà anche molto interessante vedere questa fase economica che ci dovrà far capire adesso lo che succederà, perché qui adesso passeremo da uno zero, 50%, passeremo, ovviamente, a uno, quindi arriveremo a fare un bel saltino e qui, in qualche modo, bisognerà capire un po' come si comporteranno tutto il resto, diciamo, dei grafici. Qui è chiaro che potremmo attenderci ancora un rafforzamento, forse, dei bond. Molto probabilmente potrebbe essere, potrebbe aumentare ancora il, diciamo, il tasso di rendimento. Staremo a vedere, sarà davvero interessante. E sarà molto interessante vedere anche come si comporterà il dollaro in tutto questo, che è sui massimi. Vedete, un dollaro così forte e una delle commodities, delle materie prime così forti, sono estremamente, diciamo, strane, curiose, perché tendenzialmente questo non accade mai. Il dollaro e le commodities sono, in parte, sono correlate in maniera abbastanza inversa, solitamente. Solitamente, poi, in un regime di economia straordinario come quello che ci troviamo in questo momento, ovviamente, vedete che le cose non stanno andando esattamente come ci si aspetta. Però, quindi, cosa potremmo attenderci con l'aumento dei tassi? Potremmo attenderci che le materie prime cominciino un pochino a lateralizzare e a flettere. E qui, ovviamente, l'azionario continuerà sicuramente a soffrire ancora per un po'. E questo è, diciamo, fuori di dubbio per quanto ci possiamo immaginare, diciamo, una prospettiva macro per i prossimi mesi. È vero che siamo arrivati a un livello, siamo scesi abbastanza, ma non siamo ancora scesi tantissimo. L'abbiamo visto anche nel video di ieri, volendo, per il Nasdaq, c'è ancora spazio per scendere, per arrivare anche più sotto, anche qui, intorno agli 11.000, 11.500. Quindi, davvero, non sappiamo se questo è veramente il bottom. Questo non può essere il bottom, perché non è neanche un bottom, diciamo, plausibile, perché è già abbastanza, è ancora abbastanza alto. Quindi, c'è davvero ancora tanta strada che potremmo vedere in difficoltà, da un certo punto di vista. detto questo, andiamo a vedere un po' quello che è successo oggi su Yearnings, perché sono usciti Yearnings di Ferrari, Ferrari che ha rilasciato dei Yearnings abbastanza buoni, li ho visti prima, soprattutto con un trimestre molto, molto buono, con un aumento delle vendite del 17%, ma il titolo in questo momento sta soffrendo, e sta soffrendo non poco, perché mi sembra che stia facendo di essi meno 3,26%, quindi non so bene quale sia, diciamo, la motivazione per cui il titolo in questo momento si stia, diciamo, in qualche modo, si stia in qualche modo soffrendo, ma probabilmente ci deve essere qualche problema a livello di Outlook. Adesso stavo cercando di vedere se riuscivo a prendere il calendario degli utili, giusto per vedere un po' se c'erano dei dati un pochino più interessanti da poter commentare proprio in maniera molto molto in tempo reale, diciamo. E sono usciti tra l'altro anche i dati di Volkswagen sono molto molto buoni, Volkswagen ha fatto veramente dei numeri spettacolari oggi, anche i numeri di Moderna, Moderna stessa oggi ha rilasciato i suoi dati, anche qui numeri molto molto buoni e vediamo un pochino, adesso scusate, non so che voi non state vedendo, ma stavo andando a cercare un po' i dati, anzi vediamo se riesco a farveli vedere, ve li passo di qua su quest'altra finestra, in questo momento non vediamo nulla, lo schermo è bianco, ecco che arriva Moderna, eccolo qua, Moderna, dunque, i dati sono usciti, un pre-market molto interessante, più 3,83%, più 4,46%, più 3,14% che ci ha fatto ieri, quindi Moderna si appresta a partire con un buon diciamo con una buona sprint, allora vediamo un pochino, dicevo, il Volkswagen ha fatto qui, guardiamo la casa madre, quindi la casa tedesca, vediamo un po', il Volkswagen, 13,05%, numeri enormi, davvero, davvero molto 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 alti, vediamo un po' quello che ci dice, diciamo, il dato nell'immediato, se ce la fa a caricarlo, ovviamente, sempre problemi di connessione, in questo momento vedete che il DAL del Volkswagen fa meno 1,11, quindi tutto sommato l'automotiva non è andato benissimo, allora c'era Ferrari, vediamo se Ferrari, eccola qua, race, ecco qua, dunque, vediamo un pochino, ah, ok, quindi molto buono da quanto riguarda il numero delle immatricolazioni, ma quanto pare i dati in sé non sono buoni, ecco qua, Ferrari 1,29 di EPS secondo 1,37 quindi non buono e 1,19 billion secondo 1,29 di fatturato davvero non buono neanche questo, quindi, sì, aumento del, diciamo, delle vendite per il primo trimestre, ma i numeri non ci dicono, probabilmente danno una realtà diversa perché probabilmente c'è stato qualche altro problema, quindi, anche qui, davvero, staremo a vedere quello che succederà nel corso della giornata. Allora, detto questo, torniamo sui grafici perché poi, visto che stiamo parlando di azioni, andiamo a vedere AMD, che AMD ha rilasciato i suoi dati proprio ieri sera e con dei numeri veramente interessantissimi, infatti, tanto è vero che AMD ieri sera sta facendo un after hour più 6%, guardate qua, più 24% di sorpresa per quanto riguarda l'EPS e più 17% di sorpresa per quanto riguarda il fatturato e ha un outlook sul 2022 strepitoso per quanto riguarda AMD, davvero. Adesso, l'unica cosa che può zavorrare AMD è veramente tutta la congettura globale, ma da un certo punto dei numeri, dei fondamentali, AMD non ha davvero nulla di cui invidiare a nessuno perché sta facendo davvero, ha davvero dei numeri molto molto interessanti. Il più 5% di ieri lo ha dimostrato, anzi, ieri addirittura forse ha fatto un po' meno perché il più 5% poi deve aver rallentato, vediamo un pochino qui sul, eccolo qua, più 1,44% è chiuso, però ci stava, era vicino agli earnings quindi ci stava anche un po' di rilassamento altra parte del Nasdaq che ieri non è che abbia brillato particolarmente. Quindi, detto questo, abbiamo visto un po' quello che è la quadra, macroeconomico mondiale, quello che potremmo aspettarci, andiamo a vedere quello che sta succedendo sulle materie prime in particolare e qui siamo sul gas naturale che è andato a toccare, guardate, è andato a sfiorare gli 8,50$, 8,50$ sul gas naturale, davvero ragazzi, siamo davvero a tanta tanta roba, troppo alto veramente il prezzo del gas. Andiamo a vedere quello che sta succedendo invece sul petrolio, più 4%, rompe il petrolio di nuovo, tenta di rompere questo triangolo che abbiamo disegnato qua, ma con volumi piuttosto scarsi e questo ci lascia un po' diciamo pensare. Quindi, è probabile che questa candela verde sia un po' fasulla, quindi è molto probabile, almeno, io mi aspetterei che nel proseguito della giornata, a fine serata, questa candela si vada un po' a spegnere in qualche modo. Per il resto non ci sono grandi attività sulle materie, prima il gas europeo resta fermo intorno ai 100 euro a megawattora e guardate come sta salendo il gas americano, non ci avviciniamo ai 100 euro ma comunque comincia ad essere un po' preoccupante perché 8,50 comincia ad essere un prezzo davvero molto alto e considerando che il dollaro tra l'altro è estremamente forte, insomma, se dovessimo davvero andare a prenderlo, prendiamolo qui, guardate qua, qui siamo su, ve lo faccio vedere, su, allora, ve lo rapporto all'euro, così lo vedete e vi rapporto l'unità di misura, allora, eccolo qua, a megawattora, siamo a 27 euro a megawattora, comunque, insomma, un prezzo abbastanza alto. Quindi anche qui quello che ci dice in questo momento il prezzo sul gas americano è che non abbiamo davvero finito di salire, nel senso che guardando quelli che sono l'order books delle opzioni ho notato che c'era un primo target a 8,50 su cui è già andato a fissarsi e poi c'è un secondo target molto intraprendente con tanto open interest verso i 9 dollari quindi davvero qui c'è davvero ancora tanta strada da fare per il gas americano purtroppo se non succede qualcosa di diverso. Detto questo, oro, oro, guardate che bello l'oro, adesso si è fermato un pochino, guardate ieri vi ricordate che avevo detto occhio a questa area di interesse dell'oro perché qui abbiamo ancora la possibilità di scendere verso la media a 200 periodi ma potrebbe poi rimbalzare in effetti l'oro qui largando un pochino la candela vedete che ha fatto questo spike ieri e potrebbe anche essere arrivato in qualche modo a un suo bottom di periodo e potrebbe anche tentare un po' di rialzo chiaro che adesso è fermo oggi vedremo muoversi lo vedremo verso le 8 lo vedremo muovere farà dei movimenti molto molto forti sia l'oro che il dollaro per quanto insomma sia diciamo volati le dollaro e tutto il resto del forex ma non solo anche i mercati cominceranno a muoversi in maniera molto veloce molto impazzita 5-10 minuti prima della pubblicazione dei dati sui tassi e poi anche qualche minuto dopo per poi assestarsi diciamo in fine seduta quindi ancora l'oro che comunque vedete oggi è stabile anche qui è abbastanza fermo andiamo a vedere bitcoin bitcoin che oggi recupera più 3% si riporta 39k rimane diciamo viene portato nella sua area di galleggiamento vedete che il bitcoin in qualche modo sta galleggiando lo tengono lì bello fermo intorno ai 39k in attesa che succeda qualcosa in attesa che qualcuno si sveglia e dice ok è il momento di farlo partire frustiamo questo cavallo questo cavallo che per il momento resta nella stalla per così dire è un po' a sonnecchiare i volumi non sono particolarmente interessanti però ripeto ieri abbiamo visto anche la parte di dominance 42,57% in oggi in aumento più 0,42% e oggi diciamo che stanno salendo un po' tutte le cripto più chi meno a parte Tezos che però Tezos veniva già da alcuni rimbalzi abbastanza interessanti oggi si rivede un po' a Cardano 0,82% Cardano deve recuperare tanta strada perché è scesa sotto il dollaro e poi si muovono un po' tutti Tron più 6% e poi guardate Cardano che discese che ha fatto ma questo l'hanno fatto tutti per cui davvero difficile dire chi più chi meno chi è che deve recuperare o chi deve fare più strada però sono tanti le cripto che devono recuperare per il momento diciamo che guardando un po' quello che fa quello che fa appunto diciamo il Bitcoin siamo abbastanza diciamo siamo abbastanza in linea con tutto il resto e quindi siamo in questa area di galleggiamento un po' anche poco interessante se vogliamo un po' anche noiosa tutto sommato bene per il momento è tutto sta aprendo in questo minuto proprio il Nasdaq vediamo un pochino eccoli qua guardate che balzo l'MD più 6% l'ho detto infatti AMD apre subito a più 6,19 a 96 dollari vediamo un po' se riuscirà a tenere questa quota il Nasdaq invece apre a meno 0,28 meno 0,27 in questo momento ma staremo a vedere come andrà la giornata che si preannuncia sicuramente è abbastanza interessante bene per il momento è tutto come sempre se ci sono dubbi o domande chiedete sempre se volete vedere qualche analisi tecnica particolare scrivete qui nel canale YouTube gli asset che io analizzi e dopo di che vi rimando ovviamente ai miei link social che trovate qui sotto in descrizione come sempre ci vediamo ai prossimi aggiornamenti stay tuned al finger crossed ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti